Steve chiede a Lori una cosa apparentemente banale. Pensa a una di esse. Pensa se fosse qui in questo momento, se stesse volando qui nella stanza. Lori ha un brivido, trema, sorride nervosamente, squate la testa. Steve la distrae, dà una spiegazione al pubblico e poi le fa un invito e le dice guarda a me, guarda la gente qui attorno, guarda a me, dammi la mano. Parla ancora un po' con lei, la tranquillizza, poi riprende. Ok, l'intera procedura è davvero semplice, non ti sentirai male, profetizza. Prima però ho bisogno di un attimo di preparazione. Immagina di essere a un cinema, chiede. Voglio che abbia un'immagine della scena, un'immagine di te seduta al cinema in bianco e nero. Ci riesci? Lori annuisce. Ora immagina di galleggiare fuori dal tuo corpo, di galleggiare e arrivare fino a dietro, dentro la sala di proiezione. Riesci a immaginarlo? Lori annuisce di nuovo. Riesci a vedere te stessa seduta laggiù in fondo nel cinema? E l'immagine di te nello schermo in bianco e nero? Ci riesci? Bene. Ora ascoltami attentamente. Voglio che tu faccia andare sullo schermo una di quelle immagini di te stessa in una di quelle spiacevoli situazioni, una qualunque, quando c'è in giro una di quelle. Fallo girare dall'inizio alla fine, osservati mentre dai di matto per la paura, prenditi tutto il tempo per farlo. Steve aspetta pazientemente che Lori porti a termine il compito, poi continua. Ora voglio che tu mi ascolti con estrema attenzione. Voglio che tu esca fuori dalla cabina di proiezione, che esca dalla sala del cinema e ti proietti all'interno di quel filmato, proprio alla fine. E poi voglio che tu faccia andare all'indietro l'intero filmato, dalla fine verso l'inizio, questa volta a colori, come se fosse una scena reale, come se tu lo vivessi veramente. Sei pronta all'indietro. Lori esegue prontamente il compito. Poi fa un sorriso, sorride. È andata? Chiede Steve. Bene, facciamolo un altro paio di volte. Perché un paio Steve glielo farà ripetere diverse volte, sempre più veloce. In tutto il processo durerà circa sette minuti. Alla fine, di fronte alla platea, dopo una breve spiegazione, Steve farà immaginare a Lori che entri una di quelle, proprio dentro la stanza. Chiede di immaginare che venga verso di lei volando, che si posi sul suo braccio e che inizi a camminare su di esso. Come va? C'era ancora la fobia? Lori esca una sorpresa. No! È la prima volta in vent'anni, la prima volta da quando aveva undici anni ed era caduta in un nido di vespe venendo punta da centinaia di esse che riesce a immaginare una scena simile. Mesi dopo Steve farà dei follow-up telefonici, assicurandosi che il risultato venga mantenuto anche a distanza di tempo. Un giorno di dicembre si presenterà a casa sua con un barattolo pieno di api. Lo apriranno insieme, le guarderanno volare via, ronzare attorno a lei e Lori si rimetterà a sorridere mentre quelle si allontanano. Questo è sicuramente il caso più famoso di Steve Andreas, maestro di PNL recentemente scomparso. Se mi conosci, lo sai, io non amo la PNL. La trovo infondata su molti principi, spesso aneddotica e spettacolarizzata, e spesso purtroppo molti, non tutti, dei suoi fautori sembrano piuttosto dei fanatici, manipolatori. Ma ci sono dei casi e dei principi interessanti che decisamente ha portato all'attenzione dei più, e questo è un caso interessante. Più unico che è raro, come disse lo stesso Andreas, perché questo tipo di procedura può essere usata solo in casi molto specifici, per esempio non è utilizzabile con l'agorafobia. Eppure è interessante perché rivela la possibilità, con semplici e accurate manovre, di aiutare in pochissimo tempo una persona con i suoi problemi. Molti anni dopo questo caso Steve sentì nuovamente Lori, in quello che probabilmente è stato uno dei follow up più lunghi della storia della psicoterapia. Mi pare a memoria di ricordare 25 anni dopo. E lei era ancora lì, ricordava ancora il loro incontro e continuava a non avere più alcuna paura delle api.